Per acquistare crediti, IGVOLT è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito. Link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo Scott Builder. Come vi avevo detto nello scorso video, oggi parliamo della Bundesliga, una squadra veramente strepitosa che ho fatto con soli 25.000 crediti, come avrete letto nel titolo, e vi consiglio di provarla se volete farvi una Bundesliga perché è veramente overpowered. Contando che ho utilizzato questo modulo 4-2-3-1, quello con gli esterni, che ho usato raramente nello scorso FIFA e che quest'anno ho provato e mi sono trovato davvero ma davvero bene, sembra un po' il 4-2-3-1 che si aveva magari in FIFA 12, in FIFA 13, che era veramente forte come modulo, uno dei migliori. Comunque andiamo subito con la squadra. Allora, in porta chiaramente ho messo Farman, che secondo me per rapporto qualità-prezzo è uno dei migliori portieri, mi ha preso forse due o tre gol, non mi ricordo, in quattro partite che ha fatto, contando che la prima partita è stata quittata dopo una decina di minuti. Farman è alto, ha delle ottime statistiche, soprattutto ho ricercato una statistica molto alta in riflessi perché è importantissima e anche un buon piazzamento, quindi penso che sia uno dei migliori portieri che ci siano in Bundesliga. Costa poi 2.000 crediti o giù di lì, quindi è abbastanza economico. Poi andiamo con il terzino destro, utilizzato Opare. Ho voluto provare questo giocatore che ho sempre utilizzato, visto che era argento ed era veramente forte negli scorsi anni. Ho voluto provarlo quest'anno da oro, anche se non mi convinceva molto il suo 64 di passaggio, però mi devo ricredere, è stato un buon terzino. Si è sempre comportato bene in partita, mi ha fatto anche un assist in quattro partite e ve lo consiglio perché nei recuperi difensivi è veramente un missile. Poi andiamo con i centrali, parte abbastanza nevralgica, quindi troviamo Subotic sulla destra, che sono riuscito a trovare a, credo poco, a meno rispetto a quanto costi, ed è davvero fortissimo Subotic. È un 80 di valutazione con una discreta velocità che non serve tantissimo, ma che comunque se c'è meglio avercela. E inoltre è fortissimo in difesa con un valore di 83. Essendo poi alto 1,91, ha anche un ottimo fisico, ottima forza fisica, quindi non c'è niente da dire. È un ottimo, ottimo difensore che vi consiglio di prendere. Poi, sulla sinistra invece, ho messo Brooks, che anche lui gli ho affiancato un Brooks abbastanza veloce, 74, con anche lui ottimi valori, soprattutto di difesa fisica un po' meno, però comunque si è alto 1,93. Quindi di testa, per esempio, le prende tutte e non ha tantissima forza fisica, ma non ha neanche poca. Comunque rende benissimo questa coppia dietro. Poi, per completare, abbiamo Bernat come terzino sinistro, che ho voluto prendere per via del suo buon passaggio, del suo controllo palla eccellente, comunque della sua buona velocità, buon dribbling, ma anche perché comunque ha un 78 di difesa, che da un giocatore come Bernat non mi aspetto, ma che invece ha, quindi penso che sia un ottimo terzino sinistro e costa anche veramente poco. Poi, al centrocampo, quest'anno il centrocampo è importantissimo e bisogna cercare, secondo me, di avere dei centrocampisti con un buon tiro, soprattutto perché vanno molto spesso al gol. Però con i CDC è un po' diversa la cosa. Andiamo a vedere chi ho messo come destro, Ghilavoghi, che è del Vosburg, veramente, veramente forte, mi è piaciuto molto. Ero un po' dubbioso su Ghilavoghi perché non aveva un buon tiro, non aveva neanche un buon passaggio, invece è proprio il mediano puro che recupera un sacco di palloni, difficile da superare in difesa, con un ottimo fisico alto, work da difensore aggiunto. E devo dire che ve lo consiglio perché mi è piaciuto tanto, si sente proprio la sua presenza a centrocampo, recupera un sacco di palloni e per di più mi ha fatto un gol, per uno che costa 800 crediti, direi che è tanta roba questo Ghilavoghi. Mentre dalla parte opposta abbiamo Rode, del Bayer Monaco, che ha delle belle statistiche, come possiamo notare, forse un po' meno in passaggio, ecco, si sente un po' che il passaggio non è il massimo della vita, però per 400 crediti un giocatore così, con queste stats, work at alto-alto, quindi attacca-difende, per me ci sta un ottimo acquisto e nel centrocampo fa veramente la sua figura. Poi andiamo con gli esterni, come esterno di destra Voland, ragazzi, Voland soprannominato Lira di Dio, perché è qualcosa di allucinante questo ragazzo, è veramente fortissimo, se avete 1500-1600 crediti, quanto costa, comprate Voland, utilizzatelo in questo modo, utilizzatelo anche da ala, ma veramente io vi garantisco che questo giocatore fa la differenza, perché ha una buona velocità, un'ottima velocità, ma sembra in game molto di più, infatti è difficilissimo da prendere questo giocatore, ha un tiro, soprattutto sinistro, chiaramente, che è eccezionale, tira dei siluri clamorosi, ha anche un'ottima finalizzazione per essere un esterno, ha un buon passaggio, un buonissimo passaggio, un ottimo dribbling, peccato che non ha 4 stelle abilità, ma qui chiederemo il paradiso, ed è molto forte anche in fisico, cosa non facile da trovare un giocatore così completo, e che costi così poco, tra l'altro, che mi ha fatto 2 gol e un assist in 4 partite, ragazzi, provate questo giocatore, non ve ne pentirete, ve lo garantisco, secondo me a destra non c'è di meglio, chiaramente, spendendo poco. Poi, andiamo con il COC, che è Cruze, ho voluto provarlo, perché ha delle belle stats, infatti Cruze è veramente fortissimo, c'è da fare il cambio di ruolo, perché lui è un AT, e quindi bisogna metterlo COC, ma non costa praticamente niente, costa poco, come giocatore vi consiglio di provarlo, perché fa la differenza, anche Cruze prende palla, non la perde mai, è un buon controllo palla, ma soprattutto un ottimo tiro, 80 sulla carta, ma segna praticamente sempre, se ve la portate sul sinistro, e fate i tiri a giro, segnate tutte le volte, infatti, 4 gol e un assist in 4 partite, descrivono alla perfezione questo giocatore, è davvero fortissimo. Poi, come esterno di sinistra, ho utilizzato Kostic, perché volevo provare un giocatore un po' più veloce, da mettere appunto sulla fascia, per i contropiedi, soprattutto, un giocatore che nei contropiedi è veramente forte, peccato che non ha un grandissimo tiro, e quindi non mi ha fatto nessun gol, però è stato molto utile, io se dovessi fare un'altra Bundesliga, penso che lo sceglierei nuovamente, perché secondo me, con questo prezzo, è difficile trovare qualcosa di meglio sul mercato in questo momento, Schurle penso che costi molto di più, e ha tra l'altro un controllo palla un po' inferiore, però adesso non mi ricordo benissimo, comunque vi consiglio anche Kostic, perché potrebbe essere un giocatore interessante, ma il giocatore più interessante è senza dubbio l'attaccante, cioè il Cicerito Hernandez, ho voluto mettere il Cicerito, perché volevo un po' cambiare, mettere un attaccante veloce, un attaccante che prende palla e punta subito la porta con rapidità, Hernandez, il Cicerito, lo fa tranquillamente, 4 gol in 4 partite più un assist, ha anche un buon passaggio, tra l'altro cosa importante in questo modulo, che dire, è un ottimo giocatore, difficilmente perde palla, ma la cosa più importante di questo attaccante è la sua finalizzazione, una finalizzazione pazzesca, tipo di 88, che è una cosa paurosa per un giocatore valutato 80, e infatti davanti alla porta non sbaglia mai di destro, chiaramente di sinistro ha solo 3 stelle piede debole, ma comunque anche di sinistro segna, purtroppo ha questo warhead normale di attacco, che se avesse alto sarebbe qualcosa di clamoroso, costa tanto, 8300 crediti, ma purtroppo non c'è tantissima scelta, secondo me in attacco in Bundesliga, si potrebbe esserci Adrian Ramos, ma non so quanto costa, ma penso che il Cicerito sia decisamente meglio, comunque raga, questa è la squadra, fatela, perché non ve ne pentirete veramente forte, fa un sacco di gol e subisce pochissimo, quindi raga, come sempre vi invito a lasciare un bel like, a 300 mi piace uscirà una nuova squadra, fatemi sapere che tipo di squadra volete nel prossimo video, pensavo di portarvi appunto una Ligan, perché come ho detto nello scorso video, ha dei giocatori, secondo me veramente OP, da provare assolutamente, quindi fatemi sapere nei commenti, poi magari vi porterò anche la BBVA, e la Liga Portoghesa, fatemi sapere voi, anche una brasiliana, che ne so, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, adesso vi lascio il clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! iscrivetevi al canale,